Tocca anche la Toscana, la provincia di Arezzo, la tragedia del Gran Sasso, uno dei due alpinisti precipitati da anni, infatti, viveva a Sansepolcro. Si chiamava Marco Paccosi, era originario del Fiorentino. A Sansepolcro viveva assieme alla moglie di origini albanesi, ma da tempo residente nel comune Biturgense e con i due figli. Qui portava avanti un'impresa di giardinaggio specializzata nel metodo tree climbing, la cosiddetta arrampicata sull'albero. Per le strade del Borgo lo ricordano come una persona riservata, dedita alla famiglia, al lavoro e alla sua grande passione, quella per la montagna e le sue arrampicate incordata. Passione condivisa con l'altra vittima, Lucaiani, 55enne e romano. Tante le foto dei due amici pubblicate sui social che le ritraggono spesso assieme anche durante le scalate sul Gran Sasso. La stessa passione per la montagna che lo scorso sabato gli aveva portati in Abruzzo per un'arrampicata. Grande al dispiacere l'emozione oggi tra le vie del Borgo, dove la notizia del drammatico incidente si è diffusa.